. 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 Es ist so, dass es schwierig ist. Und wenn sie sagen, ich will das nicht mehr probieren, ist das auch eine Entscheidung, wo man dahinter steht. Und vielleicht ... . Ja, ich weiß auch nicht, ob sie sich das im Moment überlegen wollen, oder ob sie ... . 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 Sì, è stato un giocato. Noi. C'è il giocato il giocato il giocato il giocato. Ciao. Il min ma fin è sì. Malgratci alla finccia suvufarque blares di addos, per bene bine è insomma di un un momento in griff. Ja, traurig. Traurig, non lo so, ma un po' di demutico. E' un po' di spió, non lo so, ma ... Non, è un po' di stag没事. E' un po' di stag traurig. Nog Assuro ma è un po' di stag. C'è un po' di stag di pote fai. Ma oggi ci sono altre situazioni, in cui abbiamo una felicità di vita e ciò che è un'escalante. La scuola è la centrale della clinica alpina. Qui c'è il telefono? 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 Veterinari per il bischofo arriva per sé servizio. L'assistente del veterinario ci sono finito in action. Qui c'è il telefono? 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 Il loro capite il primo patiente. Ciao! 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 In una scuola ed in una terna, si soppano i un edin. D'usiasi venen a questa buona ora. Ciao! Non bello! Una buona tipica in la clinica veterinara della dorscola. è la lavora set veterinari, cinch assistentes veterinarias e treizcher sonnes. Solli! Langsam, Ivory. Avant la scuola arriva la veterinaria Francesca Zala. Si è il primo patiente alla giusta tukunzai, la Cionia Ivory. Non è appartato nischo qui. Ovara. Ivory ha un tumore da Borost. È un anteriore chiam della levamint, stiamo ad una cura sia possessura e per quai operisce la chirurga il tumore questa buonura in la clinica. Ivory è una vecchia conciente della veterinaria. Una paziente che la conosce da piccino su. L'operazione dell'Otz non è la prima per Ivory. Ivory ha un Brustkrebs. Sie ha un Brustkrebs all'altra parte e adesso ha un nuovo. Warte. Nimm so. Odds a Marisa Ciol da ver del telefono principale. Il va per Paisario besubito. C'è dovrem besti e possesso, c'è va su con la planizzazione. Danke dir. Ciao Christiane, merci. Il ora svegli una voa preparare l'operazione. Un altro video, un altro video, in cui si riuscì da dormire. Un altro video. Un altro video. Un altro video. So, Di. So, bravo. L'assistente veterinare Luisa ayuda. L'operazione durerà abundante un'ora. Geht's? Ja, posso chiedere un pollo. Il salto è andato? Ok. Francesca Zala è chirurga della bestia spizzness. Mince Marcordì è di di operazione in la clinica alpina. Ja, also, di, so. Ja, so è nicht schlecht. Danke. Es ist gut für den Schneider, oder? Ja, ja. Bejuste la pelle sono du snufs, il tumore, quies stonde vent. Haben wir sonst hier auch hier zum Spritzen? Ähm, ja, ja. Nein, sonst gibt es nicht der Kammes. Da ist der eine hier drinnen, da sieht man ihn nur. Und der andere... Ist da... Da sieht man so, wenn ich so mache. Ad una pro, il telefon. Ir per la coordinazione interna. Luisa, fino a fin colza, stai, ti parezza schwerer ammuniast, stai ins. El dorme, mohai. Il tumore suon isolats. Ok, insas habe. E viene entramisse per l'analisi definitiva il labor. Oh, sorry. So, das ist gut. Danke. Bitte. Come in, merci. Du bist in der Klinik? No, no, no. No, no, no. Multitasking. 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 Quasi tu, che sei in questo monextero. Es che sei un po' di essere. Non mi stiava, non mi stiava. In la stanza giusta da spera d'Ormadin. Marisa, multitasking, stude. Pronto in film. Due nole. Il polisort. Il primo viene tagliato sulla pelle. In Cesco è una delle semplici, piccine operazioni, delle routine che si può fare. Si può fare senza grado, per lavorare extremmente hygienic. Perchè in una stocca in sé, da qua ci vada c'è una voa, ad il corpo. So, ma stiava. Il ora è fin definitiv con farfamilia, per l'in. Il pro Francesca Zala va all'operazione della Cionia Ivory verso la fine. Marisa, io bravo noch uno. Noi. 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 Un'altra volta in unmercione . Le ora es al���a nelle vielle dover. Il d'an partiza Paul G homework, una grimacione di 25 cm ad rèta, ed as chnestlek . in l'andervia, il Stainz. Il Stainz spetta una linciata davanti cinch centimetri di Stainz ad retta ed a schnistra. Quai vuol musclas ed un teradar in ordine? E quai non es cosmetica, cioè che vanno arriva da maschiare in un retto, poi ad arcolica, ed uscela da fatta privelle vita. Il caffè di Francesca Zala è spettato. Fai Blair in Thuna pare dal l'air diere vai vermi città anche fai frai. Grazie a tutti. super dann è mindestens das gut e sonst geht's hier gut far rapporti ed administrazione il quai tocca però essere veterinaria la passione di aiutare l'asbestia ci fa Francesca Zala fin già amata con crescere su a Canada su una range con vaches e cava chance e jats da waren wir in der Mitte von nix und da war kein Tierarzt der ist nur zweimal im Jahr mal durchgefahren und sonst wenn man Probleme hat hat man eigentlich alles telefonisch gemacht und dann wurden Medikamenten, Impfungen, Antibiotika und so alles per Post geschickt und dann haben wir lernen müssen das selber machen und so ist eigentlich das Ganze entstanden die Liebe zum Beruf eigentlich Ariago amal ilvainter Marisa jude jolplanzot della Klinik Alpina aver per C veterinari mainbischof guardant il vainterdalceva e vec un problema del pelle un ulkos il problema mischata idò in amasdina ist das nirbun amai plaza l'interacción con la bestia perché penso a Klinik Alpina che la bestia è il più che è una bestia che l'essa era enorme e che l'ha comunicato con l'umano e si scuffa quella vetta quella comunicazione che è un grande uso perché loro si quals cava o in cian o in gnatto o cecidese loro collaborano loro fanno loro sono qui e sono pronti ad aiutare amai a dimessere un stile e quella interacción qua non ha fatto lezare amai per Ariago dareiamo una controlla e per mainbischof va fin il cervezzon quel dal dì il planet era il cervezzon scoveterinari insomma un agente doveva essere messi in piedi la clinica al venduto questa primavera e ora viene più quiet sul mezz'adio girano la clinica in quella clinica ci dà le nostre fondazioni garantire una cura veterinaria ci va azzur quella della braccia solita ora la centrale è la scuola la dependenza è la meda e la clientela è la malogia è la niente e con questa camionetta è finito arrivare il prossimo cliente per veterinari beni biner per veterinari beni biner per c'è in aktion marisa c'ol e questo è il patient beni biner in ciòma della spola squadra ha da operare l'umblìne da quest'vadè e l'auna anomalia ci dà su vent francesca zala sul plan sura esvide la consultazione da chance e e e che si 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 No, no, no. No, 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 no. Mira va a sop da vola spaziada, la Cionia amare. È un'ottima speciale. Ok, ok. E questo è tutto bene. E anche qui ha già una trossa in questi Gelenki. È molto più in Labrador. Ok. È una flissigazione. È in questi Gelenki. con la maschdina stessa in Irbun e mi era da ceser fita vonda per la spaziada scuminaeblas eigentlich sind die in Gardinatiere verwöhnte Tiere die dürfen immer so viel spazierengehen und so viel draussen sein ich glaube wir haben es ugut im Vergleich zu denen in der Stadt alli stessmo meint jo ilplan sult kuno perare nützia bene bene l'occasion per scolarla Gersuna gris loch das sind die darmen da späckwiste primavera es il veterinari chef della clinica eduschea responsabla per pestes grondes ma er per finanzas e personal l'operazione es gratiada il va a depo avere una lunga vita il desnir un tor da levamaint er per joi dessen Irbun wie si denn im tierheim gelandet ella es un chan chatà vive in la pension de bestias ed ha dolors il sialuns mince appass ti la fa mal ich schaue jetzt gerade mal eben schauen so der umfang von der muskulatur ja dann lassen sie sie mir hier tun das mal richtig röntgen weil wir müssen sie strecken und ziehen oder und das geht wach nicht das tut weh und wenn es nicht gerade ist kann man das nicht richtig beurteilen joy assurni la dorma ivo il portretze röntgen ques des mosara la veterinaria francesca zala quant mal cides il portretze sun clairs es ist alles schlimm diese hüfte die speckt fast raus also die pfanne hier das loch wo es drinnen sitzt ist auch nicht so es ist fast so also es rutscht einfach so hin und her es ist nicht drinnen die kugel in der pfanne oder so ein armer rund intanz a marisa un mann lieber per la charore un caffè das ist eine kuh die verliert blut und sollte eigentlich halberon und das muss man gar lügen das kann sein dass irgendetwas kaputt ist es kann sein dass tot geburt ist es kann sein dass einfach geburt zuschnitt geht das muss man gar lügen da muss man schon ein bisschen pressieren ja also es ist schlimm aus la clinica vaio un pa' più d'escusse per vita e morte francesca zala discute del destino della cionia gioi e quell pare davvero ora più cobein was noch guti si hat noch recht musculatura beidseits also wenn ne hüfte prothese in frage kommt dann wäre es eigentlich ein guter zeitpunkt bevor sie auf die muskeln zurückgehen oder gioi a fortuna e la surveine una prothese da jalon edils 2.500 franks che quella costa surpiglia una fondazione un da blairs destin sort al minciadi della veterinaria in jadineisen gut im oberingadin haben wir vielleicht ein paar mehr von den jet set leute und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig weil man sieht die tiere nur kurzfristig und wenn man kann dann das problem nicht verfolgen weil sie dann wieder woanders in der welt rumfliegen einige von diesen hunden haben glaubt mehr stempel in ihrem pass als ich je gehabt habe aber ja darum ist es schwierig dann zu sehen ob es wirklich gut kommt oder nicht und dann weiss man nicht so und sie sind halt auch teilweise ein bisschen fordernder ah jetzt kommt der bayern will es nicht selber kommen bayern oh bayern komm joo ist doch nicht so schlimm joo gell Dalla clinica scuol entessa mignon là ha beni biner fatto una prima diagnosa la vacca ha per sang qua non es bun sui che va azz ila dovrà aiut pa la nascenza schlacht la che schmache c'è rippo trocchè beni biner ha da restar calm tuoi non so un fisch tuoi non so un fisch puoi 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 Ciao! Ciao! Mi aiuto, mi aiuto? Chia! 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 Sì. C'è il caldo? C'è il caldo? C'è il caldo? Molto meno che questo, questo è il passo cinquanta in un'on. C'è il caldo? C'è il caldo? In la clinica scuola parte Francesca Zala verso casa, verso l'ingegno di notte. Ad Ivory era ella da l'ingegno di notte, pilla giusta con sei. Irpro Ivory esito ad bai. Alles gut, ja. So. Jo. Blu gelato. Langsam, Ivory, langsam. So. Warte. Nein, nein, nicht selber. Du, sei. Das schaffst du ja nie selber. Das ist nicht lustig. Gib mal nach Hause, Ivory. So. So. Super. Erper, Beni Biner, va il di vers la Finne. Amo in ultim clom da controlla parats. Beni Kalbine, Marisa, c'holle? Wie seht's us? Eben, da Corvini. Hat Andi jetzt Milchfieber gemacht? Ja, er ist mal dort gewesen. Ja, da kommen wir zurück. Beni Biner torna vers la clinica. E qua ist stata nostra visita davanti quattro ure zi la clinica da bestias. Un, da 365 dies, c'ha beni bin resistim fan palas bestias galengedina. Ja. 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 Ja.